Le isole eolie dal prossimo 8 luglio saranno molto più vicine. Per fare un esempio, in circa sei ore da Salerno si potranno raggiungere cinque delle sette isole dell'arcipelago siciliano, Stromboli, Panarea, Salina, Vulcano e Lipari. Questo grazie al collegamento treno-ali-scafi reso possibile dall'accordo tra Alicost e Italo per agevolare la connessione tra la stazione ferroviaria ed il porto di Sapri da dove partiranno gli scafi veloci. Previsto anche un servizio navetta per i viaggiatori fra lo scalo ferroviario di Sapri ed il porto, offerto quest'ultimo dal comune di Sapri. In questo modo i turisti potranno viaggiare da e per le isole siciliane, impiegando molto meno tempo. Le eolie saranno così collegate al resto del network Italo, raggiungibili dalle città di Torino, Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Salerno. Italo metterà a disposizione anche comode coincidenze fra trene dall'iscafo, sia per andare verso le isole che per tornare verso il nord, grazie ad un orario studiato appositamente per soddisfare le diverse esigenze dei viaggiatori. I clienti potranno effettuare un unico biglietto valido per treno e dall'iscafo direttamente dal sito www.italotreno.it. Saranno due le coincidenze giornaliere già in vendita.